Il fly-up nasce da una esigenza. Io sono presente nel settore ormai da 15 anni, nel settore della business aviation, e la prima cosa che ho notato è che il settore aveva bisogno di automazione. Ogni attività veniva svolta in maniera primitiva, con carta e penna, dove le comunicazioni per attività che richiedono una certa sicurezza, come la gestione di un aereo, sia privato che diplomatico, avvenivano tutte attraverso il protocollo e-mail. Il mio nome è Loris Di Filippo e io sono il fondatore della società Fly-up. Io sono il del CTO, Francesco Mazzaniati, e Simone Orlandini, che mi occupo di business development. Fly-up è una piattaforma nata come web app, che ha lo scopo di mettere in comunicazione tutti quanti gli attori che operano nel campo della business aviation. La compagnia aerea, l'handler, che è colui che eroga servizi all'interno dell'aeroporto, il cater, che eroga il servizio di catering alla carta, hotel, trasporto e carburante. Fly-up prevede di gestire la comunicazione tra tutti questi attori e di percepire una commissione per ogni servizio che viene erogato. Quindi si percepirà una commissione se viene richiesta un servizio di hotel, allo stesso tempo percepirà una commissione se viene richiesta un servizio di handling, un servizio di trasporto. È una piazza d'affari dove ogni operatore ha la possibilità di interscambiare informazioni sia di natura operativa che di natura economico-finanziaria. Non siamo gli unici del mercato. È la completezza che Fly-up rappresenta come applicazione nella gestione dei processi operativi ed economico-finanziari. Nessuno dei contenitori attuali è in grado di farlo. Ognuno si possono considerare dei singoli gestionali. Il mercato di differenziamento della business aviation è un mercato che per la sola Europa si attesta a circa 18 trilioni di dollari. L'Europa non è neanche il mercato più grande, ma è rappresentato dagli Stati Uniti ed in continua crescita nei prossimi anni saranno la Cina, il Brasile e l'India. Fly-up per noi è Clear, Fast & Shared. Clear perché rende tutti gli aspetti economico-finanziari molto chiari, molto trasparenti. Fast perché noi vogliamo che queste informazioni vengano trasmesse da una parte o dall'altra in maniera assolutamente veloce. Real-time. Share perché condivide queste informazioni. Chiunque è connesso su quel volo all'interno della piattaforma riesce ed è in grado di verificare e monitorare ogni aspetto del volo, sia dal punto di vista operativo che dal punto di vista amministrativo-finanziale.